Voglio ringraziare oltre a te Angelo come Presidente anche a Stefano Maroni perché ci hanno sostenuto veramente in tutto, anche i funzionari oggi hanno fatto un grosso lavoro per disporre, per cercare di poter veramente avvicinarci a una persona che sembra imprendibile ma non lo dico, nel senso che con tutti gli impegni è bellissimo avere qua a casa nostra il lettore. Questa sera, caro lettore, come gruppo giovani insieme alle altre territoriali e regionali di Confartigianato che ringrazio caramente di essere qui con noi, insieme a Confindustria, Anceos, Ascom, Rotary, insomma Alfaic una rete di giovani che sul territorio di Bergamo si sta muovendo, si sta muovendo esattamente un po' come una corrente quando si muove sotto a un mare, non si vede ma sotto si muove e comincia a dimenarsi. Questo incontro stasera scambisce i primi appuntamenti del nostro 25esimo anno di età che compie il gruppo giovani il gruppo giovani da risalto alle nuove idee degli under 40 che adesso abbiamo diminuito a 35 anni secondo le normative europee perché sono pure cose, poi ci potremmo far fuori oppure c'è bisogno di noi in altri tavoli e in altre serie di concertazioni. È un po' così, è intuito. Sono onorato di rappresentare questo gruppo, lo dico con il cuore in mano perché io sono la presidenza di questo gruppo da circa un anno e posso assicurare alla platea che un gruppo così motivato mi permette come presidente di ottenere questi risultati. Diversamente senza il mio gruppo io non potrei ottenere questo. Grazie. 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 Grazie.